Buonasera e bentrovati in questo nuovo video. Sono Marzio Sala, presidente di Affiliate Dog e direttore della scuola per educatori cinofili. L'aggressività, ci sono i falsimiti. Quando si parla di aggressività del cane, subentrano tante dinamiche. Quando l'aggressività incontra una famiglia cambiano gli equilibri e i proprietari hanno paura. Vediamo cosa fare e cosa non fare. È capitato a me, ma credo anche a molti miei colleghi, di lavorare con cani aggressivi che durante il percorso di rieducazione sono stati trattati con collari a strozzo, con collari a punte limate, presi a pugni e calci e addirittura gli è stato consigliato l'asportazione dei denti. Ovviamente queste cose non prendetele neanche in considerazione. nessuna forma di aggressività può giustificare questi metodi e questi consigli. Se vi accorgete che il vostro cane dimostra comportamenti aggressivi verso cani o verso persone, rivolgetevi solo a personale qualificato. Le figure da contattare sono un veterinario comportamentalista o un educatore cinofilo con specializzazione in rieducazione comportamentale con almeno dieci anni di esperienza sul campo. Il professionista ti aiuterà con un buon programma di rieducazione del comportamento. L'approccio potrà essere risolutivo o gestionale, ma di certo il tuo cane potrà migliorare. Ho molti casi di aggressività risolti e molti gestiti esemplarmente. Spero di averti rincurato e di aver dato dei consigli dai quali partire per affrontare il problema. Se vuoi conoscerci o avere un nostro parere, scrivi una mail ad info.affinitdog.it, seguici sulla nostra pagina Facebook affinitdog.educazionecinofila Grazie a tutti.